Il futuro di Paolo Di Bala potrebbe essere ancora in Serie A. L'entourage dell'attaccante argentino ha avanzato al presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, la richiesta di far proseguire al classe 93 il processo di maturazione nel calcio italiano. E al momento chi si sta muovendo maggiormente per ingaggiare l'ex istituto de Cordova è la Juventus. Gli uomini mercato del club bianconero sarebbero da diversi giorni a stretto contatto con la dirigenza del club di Viale del Fante. La Juventus dunque avrebbe deciso di fare sul serio, usando i mezzi a propria disposizione, mettere sul piatto due contropartite tecniche e più eventuali soldi. E i giocatori in questione sarebbero il portiere Fiorillo, classe 90 attualmente in forza al Pescara, e Coman, su quest'ultimo però continuo incessante il pressing del Sassuolo in vista della prossima stagione. La società emiliana sarebbe fortemente interessata alle prestazioni dell'esterno offensivo classe 96, che potrebbe essere ceduto con la formula del prestito secco. Su Dybala ci sono però anche altri club esteri, come il Paris Saint Germain o Arsenal. E Zampanini nei giorni scorsi ha anche dichiarato che ha già in mano un'offerta importante, che andrebbe solo ratificata. Insomma, futuro già scritto per Dybala, che nel prossimo campionato, è certo, non indosserà la maglia rosa-nero. Intanto prosegue la preparazione del Palermo in vista della gara di sabato al 20 godi contro il Chievo Verona, partita che dovrà segnare il riscatto della formazione di Beppe Iachini.